Ciao a tutti da Podrack e in questo video vi presenterò il robot aspirapolvere Trifo Max, un robot pensato per i nostri animali domestici perché non solo raccoglie i vari peli ma permette anche di controllarli da remoto essendo dotato anche di una telecamera di videosorveglianza è un robot che possiamo considerare di fascia economica perché non costano sproposito siamo al di sotto dei 250 euro e vediamo cosa c'è all'interno della confezione questa è la confezione che devo dire decisamente carina ci dà le prime informazioni utili tra cui anche la compatibilità con l'assistente vocale di Amazon riusciamo ad accendere e rimandare indietro il nostro aspirapolvere e ci dà tutte le varie caratteristiche che ve le dico fin subito io ovvero 3000 PA per l'aspirazione che sono soddisfacenti per raccogliere i peli degli animali e anche l'aspirapolvere per quanto riguarda il contenitore della polvere abbiamo la possibilità di aprire questo coperchio e tramite un tasto push togliamo il serbatoio dotato di un filtro e questo serbatoio è da 600 millilitri un serbatoio decisamente grande enorme il robot parla perfettamente l'italiano e dato che ho aperto il coperchio vi faccio vedere che c'è una usb per ricaricare non so perché l'hanno messo il simbolino per dire se è connesso o meno con i wireless il tasto reset tasto per tornare a casa e tasto per l'accensione qui frontalmente abbiamo la fotocamera che non si occupa solo di fare la videosorveglianza ma sfrutta questa tecnologia anche per mappare meglio un po la casa la mappatura avviene in modo real time non viene salvato sull'applicazione però è sicuramente più intelligente rispetto quei robot che non ce l'hanno per niente qui sotto abbiamo i sensori per evitare che il robot cada per le scale abbiamo la spazzola principale che possiamo sostituire infatti all'interno della scatola è presente questo accessorio fatto apposta per gli animali che cosa permette di fare permette di andare a togliere completamente la spazzola perché qual è il problema della spazzola con gli animali soprattutto quelli con il pello lungo che dopo un po la spazzola si aggroviglia e quindi diventa complicato pulire per bene con questo tipo di accessorio si va semplicemente ad aspirare senza che ci sia una spazzola che vada a ingrovigliarsi e soprattutto è fatto con uno spessore talmente piccolo che fa più aspirazione ed evita quindi che i capelli i peli sfuggano via abbiamo anche un piccolissimo serbatoio di cortesia per lavare anche il pavimento vi anticipo già è un serbatoio estraibile come vedete ma è un serbatoio proprio giusto per esserci serve per togliere magari quelle polveri sottili che con l'aspirazione difficilmente riuscito a togliere vi danno anche dei panni però si tratta di panni che dovete usare che ne so due tre volte poi buttare qui c'è una piccola clip dove si va a infilare ecco qui in questa maniera poi una volta che l'avete inserito nel carrello lo piegate così e lui con le goccioline a scorrimento va a rendere umido il panno riuscite più o meno a coprire 30 metri quadri con questo serbatoio è un serbatoio piccolino ma è presente consideriamo sempre il prezzo del robot non manca il manuale di istruzioni disponibile anche in italiano e non manca la base di ricarica anche un contenitore intelligente che raccoglie i cavi così non ce l'avete in mezzo alle gambe ed eccolo qui bello operativo il nostro robot come si fa ad abbinare allo smartphone molto semplice c'è l'applicazione trifo andate su più andate a selezionare il QR code fate in questa maniera e il vostro robot si abbina alla rete e potete anche volendo poi collegarlo l'assistente vocale di amazon e riuscite a controllarlo anche con la voce una volta abbinato con la rete wireless il robot è subito pronto tra poco vi faccio vedere le funzioni base attraverso l'applicazione ma voglio farvi sentire che voce hanno inserito perché questa è una voce molto da attore di qualche film hollywood sentite inizio pulizia lo fermi pausa non è una di quelle voci robotiche è una di quelle voci super professionali da film in italiano perché a volte mettono alcune traduzioni strane vi faccio vedere invece l'applicazione perché l'applicazione è piuttosto minimalista ecco qui l'applicazione trifo max e cosa riusciamo a fare riusciamo subito a gestire il nostro robot con le statistiche sul tempo di pulizia sulla batteria riusciamo a vedere come è stato impostato a livello di regolazione di aspirazione abbiamo 3000 pa ma volendo attraverso il menu qui possiamo regolare la quantità ma io vorrei gestirlo manualmente attraverso questo telecomando per avviarle farmi sentire la rumorosità adesso è al minimo cioè io cambiando qui cambia non è che dice c'è una regolazione da 1 a 4 c'è proprio la possibilità di regolare in percentuale la potenza di aspirazione vedete al massimo ovviamente l'aspirazione è super potente in in qualsiasi momento cosa possiamo fare possiamo ritornare in modalità manuale e avviare poi la pulizia il robot mappa la casa e posso anche attivare la video sorveglianza come vedete e posso anche attivare l'audio bidirezionale ovvero che io tengo premuto e riesco a parlare attraverso il robot questo è utile se vogliamo comunicare con il nostro animale domestico adesso non attivo l'audio altrimenti c'è eco possiamo anche registrare un video e vediamo se attivo l'opzione pulisci vedete in diretta che cosa il robot sta facendo frontalmente ha dei sensori a infrarossi che evitano l'urto aggressivo contro il muro e il robot man mano pulisce con la telecamera fa anche una specie di mappatura vediamo se riesco a terminare il video ecco vedete sull'applicazione mi fa una mappatura per poi darmi nella sezione riepilego il percorso che il robot ha effettuato durante la pulizia questo aiuta tanto a capire se effettivamente ha pulito tutta la casa o se alcune zone grazie al fatto che comunque con la telecamera riesce a mappare cosa riusciamo a fare riusciamo anche a farlo tornare a casa senza che la batteria si scarichi completamente una volta che ha rilevato di aver pulito tutta la stanza riesce in automatico a tornare a casa senza alcun tipo di problema adesso vedete le ho messo delle briciole vediamo come aspira con una potenza media ok questa è la potenza media vediamo come aspira ok la prima parte l'ha fatto senza alcun tipo di problema facciamolo tornare indietro vediamo di andare giusti che stavolta ok e vedete è riuscito ad aspirare tutto senza problemi voglio farvi vedere anche l'aspetto della video sorveglianza vedete triform rilevato movimento e attraverso l'applicazione poi possiamo andare a vedere tutti i movimenti registrati in che modo accediamo all'interno del menu vediamo rilevazione del movimento e possiamo consultare tutto il registro con i video e le clip registrate ha una memoria non c'è scritto quanto abbiamo c'è ma guardate quante clip mi ha registrato ovviamente posso cancellarle l'unica cosa queste clip sono giusto per avvisarvi che c'è stato un movimento perché se vado ad aprire andrete a vedere che dura giusto qualche secondo la clip proprio 1 2 secondi vi fa vedere che è successo qualcosa poi tu attraverso l'applicazione vai sul dispositivo premi sull'opzione avvia video lui dice la video sorveglianza attiva e poi consultare e con l'assistente vocale come funziona basta dire e la accendi trifo spegni trifo bisogna urlare un po perché sennò non vi sente e vedete lui una volta che ha ricevuto il comando va a riportare il robot direttamente alla base poco alla volta con tanta senerità se ne ritorna in automatico verso la base fa tutte le manovre e quindi una volta che si scarica l'autonomia di 120 minuti va da solo concludendo sicuramente è un robot interessante perché vi permette non solo di aspirare i peli dei vostri animali i capelli la polvere ma vi permette anche di avere una telecamera di video sorveglianza che all'occorrenza riesce a muoversi all'interno dell'abitazione e se la fissate in una determinata direzione riesce anche a rilevare il movimento e ricevete la notifica direttamente sul vostro smartphone è anche molto interessante il fatto che abbia un serbatoio della polvere da 600 millilitri che vi permette di evitare di svuotare in continuazione il serbatoio perché prima che si riempi ce ne vuole poi all'interno c'è un accessorio che in altri robot non ho mai trovato e vi permette di raccogliere direttamente i peli e i capelli senza l'utilizzo della spazzola qual è il vantaggio e svantaggio di quell'accessorio? che riuscite a raccogliere peli e capelli senza che si vadano poi a grovigliare direttamente sulla spazzola lo svantaggio è che poi le cose un po' più solide che non passano dal foro non riesce a raccoglierle però all'occorrenza decidete voi cosa e quando installare un dispositivo se avete bisogno di raccogliere i peli del vostro cagnolino perché sta facendo la muta allora utilizzate l'accessorio dedicato oppure utilizzate tranquillamente la spazzola al massimo poi andate voi a togliere i capelli e i peli che si vanno ad aggrovigliare secondo me se l'ho riuscita a trovare sui 200 euro o anche a qualcosina in meno è un ottimo affare certo ha qualche compromesso ma si tratta di un robot che possiamo considerare tra virgolette economico rispetto ad altri che non hanno ad esempio la telecamera di sorveglienza vi lascio qui sotto il link in descrizione così se volete acquistarlo lo trovate direttamente su Amazon e noi ci vediamo alla prossima ciao